Con il decreto concretezza approvato di recente dal Parlamento cambieranno le regole per lo svolgimento dei concorsi pubblici, quindi anche i concorsi della scuola. Le novità sono numerose e riguardano diversi aspetti della procedura concorsuale. Intanto c'è una norma che stabilisce che con i futuri concorsi bisognerà garantire che il personale selezionato possieda adeguate competenze in materia di digitalizzazione e di gestione dei fondi strutturali. Questa seconda precisazione fa pensare che nei programmi di concorso ci potrebbero essere anche riferimenti al tema della cosiddetta progettazione europea. Le prove scritte potranno essere svolte almeno in parte in modo da renderne possibile la correzione con strumenti informatici e altre modifiche importanti riguardano le commissioni di concorso. Intanto verrà istituito un albo nazionale dei commissari e dei presidenti di commissione, di cui potranno far parte anche i dipendenti in pensione da non più di quattro anni. L'albo avrà validità triennale e si potrà farne parte per non più di due trienni consecutivi. L'idea è evidentemente quella di contenere eventuali fenomeni corruttivi, ma è molto improbabile che questa misura possa facilitare la formazione delle commissioni di concorso nella scuola. Nel caso della scuola, infatti, per mettere insieme le commissioni, gli USR devono letteralmente pregare docenti e dirigenti scolastici che non hanno alcuna possibilità di ottenere esoneri o semi esoneri dal servizio. Per la verità, un articolo del provvedimento prevede che entro 30 giorni il governo provveda anche ad emanare un decreto interministeriale per aggiornare i compensi previsti per i componenti delle commissioni, compensi che attualmente sono veramente molto modesti. Ma attenzione, lo stesso articolo stabilisce anche che questa operazione dovrà essere fatta ad invarianza di spesa, cioè bisognerà trovare i soldi necessari nei fondi già disponibili presso ciascun ministero. Insomma, è la solita storia. Si cambia tutto, ma ricordando sempre il vecchio detto, bambole non c'è una lira, come nella miglior tradizione dell'Avanspettacolo nazionale. Del tema noi continueremo ad occuparci, quindi mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni qui direttamente su questo canale oppure anche collegandovi al sito della nostra testata www.tecnicadellascuola.it Grazie. 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 Grazie.